Ehi, tu. Sì, tu. Quello che chiaramente fa molto spesso le ore piccole. Mi dispiace disturbare il tuo recupero, ma è tempo che diamo inizio a questa buffata di capodanno. Ora, forse qualcuno potrebbe sorprendersi che Netflix abbia scelto questa come prima faccia che vedrete nel 2018. Ma sono gli stessi che non la definirebbero bella, a meno che non vincendi la casa. Quindi dateci dentro. Distraetevi dando un primo sguardo alla seconda stagione di una serie di sfortunati eventi che potrete ammirare il 30 marzo. Salute. Cruciateli! Adesso! Non assomiglia a un incubo? No! Perché è questo l'effetto che volevo creare. Grazie a tutti!